Salve mondo di YouTube, sono il capo del canale per chi non mi conosce. Comunque, benvenuti nella rubrica settimanale dove vi parlerò delle principali notizie del mondo videoludico. I prototipi delle Steam Machine sono andati a 300 eletti, scelti da Valve per effettuare i test, quindi raccomandati. Ovviamente ricevuta la console, sono apparsi i primi unboxing, vi metto link in descrizione per guardare i video. La versione Alpha di Dates è stata pubblicata lunedì 16 dicembre su Steam, nelle prime 24 ore il gioco è stato scaricato da migliaia di persone, facendo registrare 142.403 utenti. Una partenza davvero notevole per un titolo non ancora disponibile in versione completa. Il risultato è sorprendente e gli sviluppatori ringraziano i fan per il supporto, nelle prossime settimane verranno rilasciati nuovi aggiornamenti. Ma dico io ci trovate tanto gusto ad ammazzare gente già morta che non sta nemmeno in piedi e le uniche parole che dice sono Il DLC Grido di Libertà per Assassin's Creed 4 ha fatto la sua comparsa su tutte le piattaforme, ma non su PC. Un amministratore di Ubisoft ha infatti annunciato che il pacchetto sarà disponibile per PC nei prossimi giorni, quindi non rompete il cazzo se non avete il DLC. Minecraft è finalmente disponibile su PS3. Il gioco arriverà anche su PS4 e PS Vita nel corso del 2014, presto arriveranno anche DLC con skin, texture e nuovi contenuti extra. Finalmente era anche ora, si ritorna a parlare del possibile ritorno di Crash Bandicoot su PS4. Questa volta ci ha pensato PlayStation che, sulla propria pagina ufficiale Facebook, ha pubblicato un'immagine in cui viene ritratto Crash vestito da Babbo Natale con la seguente frase. Cosa speri di trovare sotto l'albero di Natale quest'anno? Lingua danese di merda. Square Enix ha confermato il debutto di Final Fantasy X e X 2 HD nella sua versione PS Vita, che sarà disponibile allo stesso giorno di quella PS3, ovvero il 21 marzo 2014 in territorio europeo. Su PS3, sarà disponibile un'esclusiva limit dedizione, che include un artbot a 48 pagine. Questa versione sarà in vendita a 44,99 euro. Arrivano nuove indiscrezioni su Far Cry 4, che dovrebbe debutare il prossimo anno su PC e console di nuova generazione. Secondo quanto affermano fonti vicine al progetto, il titolo è attualmente noto con il nome in codice Omega, sarà un open world e comprenderà elementi da RPG. Inoltre, dovrebbe essere presente una modalità co-op e applicazioni online. Sono disponibili nuove immagini di Latarra di Mezzo, l'ombra di Mordor. Oggi gli sviluppatori pubblicano 5 nuove immagini. Non vedo l'ora di sparaflasciarmi su questo gioco. Guarda che ambientazioni e grafica. Con questo finiscono le notizie di oggi, mi raccomando mettete un mi piace e iscrivetevi al canale, ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti.